La terza lettura del ciclo letteratura del Novecento è tratta dal romanzo La miglior vita di Fulvio Tomizza. Fulvio Tomizza nasce a Materrada di Umago in Istria nel 1935 e muore a Trieste nel 1999 a 64 anni. La sua vita è spezzata a metà, come succede agli esuli, ai profughi, nel caso specifico un profugo istriano, destino comune anche ai profughi dalmati. Fino a vent'anni vive in Istria, per gran parte in Istria, in parte anche a Trieste, dividendo gli studi tra Capodistria e Gorizia. Intorno ai vent'anni si trasferisce a Belgrado, dove inizia gli studi in ambito artistico, e fa anche un'esperienza nell'ambito cinematografico a Ljubljana. Però, come sappiamo, nel 54 il territorio viene definitivamente diviso tra Italia e Jugoslavia, Trieste torna all'Italia, deve fare una scelta. e dal 1955 si trasferisce a Trieste, dove poi vivrà fino alla morte, svolgendo la sua vita artistica di scrittore, ma anche di giornalista, anche di giornalista radiofonico. Vita segnata da una notevole prolificità, scrive più di 30 opere di carattere prevalentemente narrativo, divisi tra romanzi e racconti, e scrive anche tre pezzi teatrali, segnati da grandi successi. Inizia nel 1960 con il romanzo Materada, la sua terra di origine, che fa parte della trilogia istriana, a cui seguirà una seconda trilogia, che potremmo dire trilogia di Stefano Markovic, che è il personaggio che nasconde le sue vicende autobiografiche. Come dicevo, la vita artistica è segnata da notevoli successi, perché già nel 1969 vince il premio Viareggio con L'albero dei sogni, nel 1977 vince il premio Strega con La miglior vita, da cui appunto è tratta la lettura di questa sera. Però negli anni vi vincerà quattro selezioni della giuria dei letterati del premio Campiello. La miglior vita tratta i temi classici della sua ispirazione, che sono legati appunto alle vicende storiche, che segnano lo smembramento della comunità italo-croata nel cui Geno nasce, che è combattuta tra fratture familiari, linguistiche, culturali, geografiche, e che spezzano dunque la loro vita. E tutto questo viene descritto da un osservatore, un cronista, che è il personaggio Martin Krusic, un sacristano della parrocchia, che tra le vicende minute del paese descrive questo smembramento, descrive questo dramma. e con tristezza e nostalgia si rende conto che la morte, il passaggio a miglior vita suo, segna anche quello del mondo in cui è vissuto. Buona lettura.